Il presidente della provincia Walter Catarra in collaborazione con la prefettura di Teramo sta approntando un piano emergenza terremoto per tutti quei comuni che non ne sono ancora dotati. La CGL chiede la creazione di una macro regione composta da Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana, una scelta strategicamente valida per il sindacato. A Civitella del Tronto i DV e comunisti italiani si oppongono alla realizzazione di una cava a Colle San Pietro. Il PD monitorerà il mondo della scuola attraverso una consulta e per giovedì ha organizzato un convegno. Anche quest'anno nella ricorrenza di Sant'Antonio Abate Teramo Nostra ha organizzato la benedizione degli animali. Lo sport dopo tre pareggi consecutivi il Giulianova si proietta la sfida di domenica prossima in casa dell'Arzanese che precede in classifica i giallorossi di due punti. La banca Ter Casteramo riprenderà domani la preparazione in vista della gara di domenica a Siena. Arbitreranno Pozzana, Giansanti e Barni. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Buongiorno, questa è la prima edizione. Iniziamo parlando di provincia perché il presidente Walter Catarra in collaborazione con la prefettura di Teramo sta approntando un piano terremoto di emergenza, terremoto per tutti quei comuni che non ne sono ancora dotati. Vediamo. Insieme alla prefettura è stata organizzata questa giornata di confronto per sollecitare anche le amministrazioni locali della provincia a dotarsi di un piano di protezione civile. Sì, la legge che obbliga gli enti a dotarsi di un piano di protezione civile risale al 1992 e poi al 1998 in realtà e non tutte le amministrazioni hanno temperato a questo obbligo, compresa la provincia che non aveva il suo piano di protezione civile. Noi abbiamo cominciato a muoverci in questo senso dal 2009 e dall'inizio del 2010 in realtà. Ci stiamo dotando di questo piano di protezione civile, abbiamo iniziato una serie di incontri per la condivisione con il territorio e quindi stiamo per approntare definitivamente il piano di protezione civile. Abbiamo fatto anche un ufficio di protezione civile per cui riteniamo di essere a buon punto e per quanto riguarda la provincia questo incontro si inseriva in questo quadro di condivisione. Naturalmente anche i sindaci che sono i primi attori della protezione civile, sono i primi responsabili, devono dotarsi di questi piani di protezione civile, quelli che non ce l'hanno e quelli che invece hanno già approvato i piani di protezione civile li devono tenere dinamici, cioè non li possono mettere in cassetto e dimenticarsene e questo incontro serve appunto a questo. Era un incontro che avevamo visto e progettato insieme alla Prefettura, insieme al Comune di Teramo, alla città capoluogo e naturalmente lo sciame sismico dei Monti della Laga ha dato un'accelerata a questa nostra intenzione di fare delle riunioni, abbiamo fatto una prima con i sindaci del territorio interessati dall'epicentro del sisma e oggi è un po' più allargata, non parliamo solo di sisma, ma parliamo di emergenze, di calamità naturale di qualunque natura, quindi rischio idrogeologico, rischio industriale, qualunque tipo di rischio e sollecitiamo i comuni ad implementare i loro piani di protezione civile e ad aggiornarli costantemente. La CGL chiede la creazione di una macro regione composta da Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Se ne parlerà in un incontro che si terrà venerdì prossimo a Teramo al servizio. Walter Cerfeda, segretario della Confederazione Sindacale Europea, sarà a Teramo venerdì 20 gennaio a partire dalle 9.30 nella sala convegni San Carlo di Via Delfico per parlare dell'Europa, l'Italia e dell'Italia di mezzo. La CGL nell'occasione tornerà a chiedere la creazione di una macro regione composta da tutte le regioni del centro Italia? Sì, per la ragione è questa. Noi continuiamo a essere definiti una regione cerniera. Ora cerniera è una cosa stupida se non c'è la porta. Bisogna vedere questa porta dove la vogliamo aprire, verso le Marche, la Toscana, l'Umbria e così via, oppure verso il sud. Io credo che l'Abruzzo e Teramo debbano scegliere questa macro regione. Qual è la vostra proposta? Noi con questo ragionamento sull'Italia di mezzo vogliamo rinanciare anche in Abruzzo una discussione che era già stata avviata un paio di anni fa tra le regioni del centro Italia. noi crediamo che oggi per riprendere il filo di questo paese c'è bisogno di cooperazione e oggi uno dei modi per cooperare è mettere insieme le regioni in alcune scelte strategiche. Per esempio le regioni devono mettersi insieme, le regioni del centro Italia, sulla questione delle infrastrutture materiali e immateriali, quindi mettere in rete l'est con l'ovest, quindi il tirreno con l'atriatico, mettere in rete le università. L'Italia dei Valori e i comunisti italiani si schierano contro la realizzazione di una cava a Colle San Pietro di Civitella del Tronto. Vediamo di cosa si tratta. L'Italia dei Valori e i comunisti italiani dopo la pausa natalizia tornano ad occuparsi di alcune criticità legate al territorio provinciale. Questa volta l'attenzione è focalizzata sul problema delle cave. Secondo i partiti, nel comune di Civitella del Tronto la zona più colpita da questa problematica è quel tratto di territorio a ridosso dell'ASS 81 che va da Rocche a Villa Lempa. Il 28 settembre 2011 è stata pubblicata alla regione Abruzzo la richiesta di autorizzazione per la coltivazione di una cava da parte della Daeli SRL di Colle San Pietro di Civitella del Tronto. La Daeli, che svolge attività estrattive anche in altri comuni, vedi Corropoli, non è nuova a richieste del genere nel comune di Civitella, poiché già il 21 marzo 2007 aveva presentato istanza per un'attività estrattiva in zona Colle Bigliano, su una superficie di 19.000 metri quadrati. Ora ci riprova in località Piano Risteccio, interessando una superficie di 2,71 ettari, ubicata a stretto confine con l'ASS 81, con abitazioni private, con la centrale Enel e con l'alveo del fiume Salinello. Il progetto di intervento prevede la suddivisione dell'area in due lotti. È previsto il ripristino del sito mediante l'utilizzo della terra di esubero della variante sulla statale 81, da quella di provenienza da scavi per edifici civili, e da quella proveniente da cave vicine. La nostra valutazione a pelle, dicono i partiti, sul progetto, è che aumenteranno gli inquinanti, rumori, polveri e gas di scarico, anche se il piano prevede l'innaffiamento. La SS 81 subirà seri danni a causa dell'aumento di mezzi pesanti a pieno carico circolanti. Aumenteranno i disagi per la popolazione. La cave è a ridosso del centro abitato, ci sarà un impatto ambientale notevole, verrà alterato l'ecosistema del fiume Salinello e alla fine rimarremo con un bel cratere profondo 18 metri. In attesa di un vero piano cave, si chiede alla Regione la sospensione sia di nuove autorizzazioni, sia di quelle non ancora avviate. Adesso a Giulianova, dopo l'installazione dei relativi parchimetri e la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale, partiranno dalla mattinata di domani, mercoledì 18 gennaio, i parcheggi a pagamento presenti nelle vie Galilei e Matteotti, in una parte di Piazza Marà e nei pressi del Palazzo di Giustizia Piazzale Est. Parliamo adesso di politica dell'iniziativa avviata dal Partito Democratico regionale, perché parte appunto il piano di intervento sul territorio per una sanità migliore. Si parte esattamente dall'ospedale di Atri, esattamente venerdì prossimo, intorno alle 10 i responsabili del PD regionale, in modo particolare i consiglieri Claudio Ruffini, Peppino De Luca e altri esponenti come Camillo D'Alessandro, visiteranno la struttura sanitaria atriana, al primo posto il CUP, poi i reparti di psichiatria, medicina e chirurgia, e infine i centri regionali di auxologia e fibrosi cistica. Nell'istruzione il futuro, questo è il tema di un convegno organizzato dal Partito Democratico che si terrà il 19 gennaio a Teramo. Il PD ha organizzato a Teramo un incontro sull'istruzione, in particolare si parlerà del futuro dell'istruzione. L'iniziativa si terrà giovedì 19 gennaio a partire dalle 18 all'hotel Abruzzi. Perché la necessità di un approfondimento su questo tema? Intanto il convegno è il primo di una lunga serie che terremo nel corso di questi tre mesi su tutti i territori provinciali. Inizieremo della scuola, abbiamo voluto dividere in due momenti scuola e università per toccare tutte le problematiche. Toccheremo quelle locali e provinciali, ovviamente partendo da una riflessione nazionale che non possiamo evitare. Quali sono stati i tagli degli 8 miliardi alla scuola negli ultimi anni di governo Berlusconi, con la Moratti e la Gelmini, passando per la Tremonti, che hanno messo in ginocchio tutti i sistemi di istruzione del nostro Paese. Mettendo in discussione anche importanti innovazioni che hanno portato merito alla nostra Italia, al sistema di istruzione. Quindi toccheremo tematiche legate alla sicurezza delle scuole, al sostegno, all'istruzione, alle classi. Il PD sta creando un gruppo di lavoro sull'istruzione? Sì, questa iniziativa è un punto di partenza per un lavoro che svolgeremo sulla scuola meticolosamente. Abbiamo già seguito le varie battaglie contro il dimensionamento, che è stato superiore a quello previsto. Erano richiesti 9 accorpamenti, sono stati fatti 11, con conseguenza di organizzazione per le scuole, di saggi dal punto di vista logistico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle utenze. Quindi andremo, con questo nuovo gruppo di lavoro, ad analizzare le situazioni in tutti i territori. Quindi una specie di ricognizione in tutte le scuole, dove andremo a vedere i disagi, andremo a vedere gli effetti di questo dimensionamento. Oggi si celebra Sant'Antonio Abate, quindi innanzitutto un augurio a tutti coloro che portano il nome di Antonio Antonella, ma anche quest'anno, in questa ricorrenza, Terramo Nostra ha organizzato la benedizione degli animali. Vediamo il servizio. Celebrazione della Santa Messa è tradizionale benedizione degli animali. nella giornata di Sant'Antonio, organizzata come sempre da Terramo Nostra. Sì, noi è una tradizione che cerchiamo di mantenere, perché diciamo, prima gli animali servivano per alimentarsi, adesso servono per tenerci compagnia. Però è un'immagine, una che fa parte della nostra storia, noi cerchiamo di mantenere le nostre radici, solo mantenendo le nostre radici, poi ci possiamo proiettare nel futuro e contrastare anche le altre culture, che se no festeggiamo Halloween, non festeggiamo Sant'Antonio Abbate. Grande partecipazione alla Messa, ma anche tanti animali sono stati portati alla benedizione. Sì, ogni anno vediamo che ogni anno vengono, quindi è una tradizione che si rinnova e che cerchiamo di portare avanti, anche grazie al gruppo Alpine, c'è il Presidente Tonino Di Carlo, ma tante persone, i canonici. L'unico, diciamo, che ci dispiace un po' è che non la possiamo fare nella chiesa proprio di Sant'Antonio Abbate, che sta nell'arco di Porta Malatina, perché dice che non è agibile. Ma sono due anni che la potrebbe rendere agibile, oramai non è che ci vuole tanto, se no la rendiamo agibile noi come cittadini. E anche Mociano Sant'Angelo ha celebrato il suo Sant'Antonio con una rappresentazione scenica. Vediamo di cosa si tratta. Il 17 gennaio si festeggia Sant'Antonio Abbate a Mociano, una celebrazione a metà strada tra la religione e la tradizione. Palo Sacripante veste i panni di Sant'Antonio. Allora, io devo dire che ho preso l'eredità di mio padre, che lui lo svolgeva ad Atri, perché io sono di Atri e sono sposato qui a Mociano. Ecco, ho portato questa tradizione qui, non io, ma a mio padre nel 2009. Lui teneva molto a portare questa tradizione a casa mia e poi si è allargato un po' a macchia d'olio. Prosegue questa tradizione ora con il figlio, una rappresentazione che parte dalla benedizione, dal fuoco e poi da un canto. Questo canto, proprio canto, questo è un canto di Antonio Di Giorgio, più che canto è un'operetta, è un canto recitato dove mio padre teneva molto e lui diceva sempre che non serve la voce, ma serve più fare la mimica e fare la scena. Prima di fare questo Sant'Antonio in campagna si faceva questi gesti del fuoco e degli animali e poi si recava in casa dove l'aspettavano questi contadini che lo accoglieva veramente a braccia aperte e donandogli dopo il canto una cena e facendogli riportare anche dei doni tipo salsicce, formaggio, robe varie. E adesso ci occupiamo di Confindustria perché c'è un cambio di mano alla presidenza dei giovani imprenditori di Confindustria L'Aquila dopo quattro anni di mandato Alessandra Rossi passa il testimone di una presidenza che si prospetta nuova e con un futuro tutto da disegnare e il successore, il primo presidente del gruppo Giovani Imprenditori a trovarsi all'interno di un cambiamento radicale strategico, qual è l'avvio di una nuova fase di collaborazione fra le due associazioni territoriali dell'Aquila e di Teramo sotto legida di Confindustria Gran Sasso e allora proprio per salutare la presidenza del gruppo Giovani Imprenditori il suo nuovo corso è stato organizzato l'evento a tema Gran Sasso che unisce e non divide il tutto si terrà venerdì prossimo 20 gennaio alle 18 alla Villetta in località Fonte Cerreto nella base della funivia del Gran Sasso ci sarà anche una tavola rotonda alla quale parteciperanno per quanto riguarda Teramo il presidente di Confindustria Paolo Di Salvatore il presidente dei giovani imprenditori Confindustria Teramo Luca Verdecchia e adesso invece andiamo a vedere quelli che sono stati i titoli proposti questa mattina dai vari quotidiani locali con la nostra rassegna stampa in video vediamo rassegna stampa locale martedì 17 gennaio 2012 il centro sisma 20 comuni senza piani d'emergenza spunta la lista dei centri fuori legge ci sono Giulia Nova Sant'Egidio e Sant'Omero poste scoperto un secondo a manco l'ex direttore dell'ufficio di Viano e Lucidi pedinato anche in due sale gioco provincia Teramo Lavoro inchiesta su 895 mila euro la procura apre il terzo fascicolo su Cretarola dopo l'esposto del PD su fondi europei paura a Corropoli cassiera aggredita rapina da 30 mila euro colpo alla Tercas due banditi trascinano la donna e portano via i soldi dal bancomat il messaggero traffico in tilta la prima nevicata molti terramani senza gomme termiche alle auto frazioni pericolo ghiaccio il caso protesi all'anca difettose lo specialista Bizzarri lancia l'allarme la ASL non fornisce ancora dati Giulia Nova poliambulatorio allagato citato il comune Mastro Mauro denuncia la compagnia di assicurazione che si rifiuta di pagare il danno Rosseto rifiuti il tar boccia l'ordinanza l'amministrazione non ha rispettato le procedure per la gara d'appalto la città noi c'eravamo quella notte sulla costa Concordia il racconto della famiglia dell'albergatore Marco Di Domenico cresce e brucchi cadono rovirosamente catarra e chiodi la classifica del sole 24 ore punisce i presidenti di provincia e regione ma premio al sindaco di Teramo Val Vibrata rapinata alla Tercas la filiale di Corropoli vittima di due giovani con accento campano Giulia Nova tutti assolti reati ambientali prescritti si chiude il processo teramano contro il patrono del gruppo Amadori il tempo provincia Teramo Lavoro l'inchiesta si fa in tre l'utilizzo dei fondi europei nel mirino della procura prevenzione e piane di protezione civile metà dei comuni non li ha lunghe code sulla Teramo Mare e adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi con Meteoteramo.it Previsioni per oggi in provincia di Teramo prevalenza di schiarite su gran parte del territorio provinciale ad eccezione di locali addensamenti in prossimità delle zone litoranee tra pomeriggio e sera moderato aumento della nuvolosità a partire da est senza precipitazioni rilevanti da segnalare rasserenamenti nella notte temperature in aumento massime comprese tra 6 e 9 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 7 e 10 gradi sulle coste venti deboli settentrionali mari quasi calmi eccoci qui con la pagina sportiva iniziamo dal calcio il Giulianova dopo tre pareggi consecutivi si prepara in vista della sfida di Arzano in terra campana contro l'Arzanese la formazione giallorossa caccia di punti importanti per raggiungere quanto prima la soglia della salvezza mister De Patre dovrà fare a meno però dello squalificato Carbonano facciamo il punto con questo servizio contro il Campobasso è arrivato il terzo pareggio consecutivo per il Giulianova che continua la sua marcia di avvicinamento al traguardo della salvezza contro i molisani a dire il vero l'obiettivo era quello dei tre punti per compensare anche la penalizzazione di due che dovrebbe arrivare forse entro fine mese anche se il presidente Dario D'Agostino spera di evitare ancora la penalità e di ottenere a fine stagione i contributi per la valorizzazione dei giovani il massimo dirigente giallorosso ha comunque già fatto sapere ufficialmente che al termine della stagione abbandonerà lo ha detto al sindaco Francesco Mastro Mauro in un incontro di dicembre D'Agostino non è più in grado da solo di portare avanti la gestione del sodalizio di via Migliori ma al momento non c'è un solo imprenditore intenzionato ad acquisire il pacchetto azionario mentre Fabrizio De Giovanni l'imprenditore romano che si era presentato con tanta buona volontà alla fine è risultato essere semplicemente un blef per quanto riguarda la squadra De Padre domenica prossima per la trasferta di Arzano dovrà fare a meno anche di Carbonaro appiedato dal giudice sportivo dopo l'espulsione di domenica scorsa per somma di ammunizioni l'attaccante aveva chiesto scusa ai compagni all'allenatore già al termine della sfida contro i molisani le ire di De Padre erano legate essenzialmente all'affatto che Carbonaro è recidivo e soprattutto il cartellino rosso era arrivato nel momento migliore per il Giulianova che stava attaccando per trovare la via della rete ed incamerare quindi i tre punti contro l'Arzanese il trainer giallorosso dovrà fare a meno anche di Morga per lui forse un ritorno in campo nella sfida interna contro il Fano il capocannoniere giallorosso dovrà restare infatti completamente fermo ancora per una settimana difficile il recupero di Zoppetti mentre per Daniello non sembrano esserci problemi De Padre ritroverà anche Terrenzio che ha scontato il turno di squalifica ma il difensore potrebbe essere ceduto entro la fine della campagna cessioni acquisti di gennaio visto che il suo procuratore da giorni starebbe trattando con altre società Andiamo in Serie D adesso domenica in programma il derby tra Sant'Egidies e Teramo la squadra di Fontana arriva alla sfida dopo la sconfitta in casa dell'Atletico Trivento mentre la formazione di Cappellacci uno degli ex dell'incontro è forte della testa della classifica e della cinquina rifilata domenica a Lisernia si attendono ancora le decisioni della questura in merito alla vendita dei 200 biglietti messi a disposizione per la tifoseria teramana il San Nicolò torna invece domenica al nuovo stadio di Piano Daccio per ospitare Luco Canistro terzo ultimo in classifica adesso il basket ancora un giorno di riposo per la banca Tercas Teramo ricordiamo reduce da 4 vittorie consecutive riprenderà domani la preparazione in vista della trasferta contro i campioni d'Italia del Monte Paschi Siena prima giornata del girone di ritorno gli arbitri della sfida saranno Pozzana Gian Santi e Barni intanto la gara casalinga contro la Benetton Treviso è stata anticipata sabato 28 gennaio ore 20 e 30 su richiesta della società biancoverda impegnata in Euro Cup però adesso facciamo il punto della giornata di campionato con questo servizio Siena torna la vittoria battendo a Monte Granaro ma soffrendo più del dovuto contro una sutura in cui il grande assente per problemi fisici è stato Zorowski eppure per tre quarti di gara la Fabi Schuss tiene botta contro i campioni d'Italia che fanno affidamento su Thornton e Andersen per chiudere in vantaggio prima dell'ultimo periodo a fare la differenza nel finale sono le triple di Stonruck e Moss Milano perde invece la terza partita consecutiva nonostante vada anche sul più 21 contro Biella nel primo quarto l'Angelico si prende due punti importanti dopo cinque sconfitte consecutivi con il capitanzo Ragna che si carica la squadra sulle spalle mentre Scariolo a fine gara denuncerà gravi problemi psicologici dei suoi oltre alle poche rotazioni del perimetro il che per una squadra come Milano suona di certo un posto nato chi agguanta l'Olimpia al secondo posto è Pesaro la scavolina la meglio su Casale grazie ai suoi americani è Allideca con Super Hickman decisivo nel finale quando la squadra di Crespi era tornata sul meno uno grazie a Temple e Malaventura Sassari si guadagna invece la Final 8 di Coppa Italia travolgendo Caserta le pessime percentuali a tiro della squadra di Sacripanti e la serata no di Collins e Bell che sembra la brutta copia del giocatore che qualche anno fa faceva favilla a Livorno contribuiscono a servire su un piatto d'argento la vittoria ai fratelli Diner anche Avellino si guadagna l'accesso alla Coppa Italia avendola meglio sulla matricola Venezia che della Final 8 era già certa dopo aver risolto i problemi societari la Sidiga spiazza nel terzo quarto un parziale di 35 a 11 che taglia le gambe alla Reier con la squadra di Mazzon che non riesce a recuperare con tanto di espulsione di Bowers negli anticipi dell'ultima giornata di andata Cantù torna a vincere dopo il passo falso ad Ancona avendola meglio su una Canadian Solar Bologna in gran forma mentre Treviso centra la seconda vittoria consecutiva nella sfida diretta contro Chemona lasciata al penultimo posto della classifica e a proposito di basket stasera alle 21 torna basket e basket ospite in studio di Rino Orsatti il giovane playmaker della banca Tercasteramo Antonello Ricci adesso invece la palla a mano quella femminile perché con la vittoria sul Sassari di sabato scorso la leader coppia è salita al secondo posto in classifica primo posto occupato da Salerno ascoltiamo intanto l'intervista realizzata con Serafino Labrecciosa coach delle ragazze biancorosse al termine appunto della gara vinta contro le Sarde Un attimo In semifinale di Coppa Italia questo successo non è arrivato è arrivato quest'oggi in campionato un successo importantissimo per la vetta della classifica Sì un successo importante anche perché quello che abbiamo detto dopo la semifinale di Coppa Italia cioè che purtroppo noi siamo una squadra che dobbiamo avere il tempo per crescere siamo cresciuti prima di Salerno poi la lunga sosta purtroppo l'abbiamo pagata perché abbiamo delle situazioni particolari quindi giocando insieme riuscendo ad allenare poi possiamo crescere l'abbiamo dimostrato oggi i ragazzi ci hanno creduto penso che una partita così contro Sassari non era stata mai vinta sono state veramente eccezionali La squadra si è chiusa bene anche in difesa nel secondo tempo grande ancora la prestazione di Martina Giono Sì sì ma guarda io dico che una difesa difende se il portiere para il portiere para se la difesa difende noi siamo la migliore difesa di questo campionato Martina come Sabrina hanno un grosso livello Martina ancora di più veramente sta facendo un campionato straordinario però è aiutata dalla difesa e lei aiuta la difesa e da lì possiamo ripartire perché poi abbiamo la forza per ripartire Due successi importanti prima contro Salerno adesso contro Sassari le ambizioni salgono Le ambizioni salgono se riusciamo a rimanere così se riusciamo a credere e a continuare a credere che siamo una squadra forte che possiamo crescere partita per partita perché abbiamo tante possibilità di giostrare determinate situazioni perché sia a Salerno che oggi abbiamo giocato con Daniela Palaria al 50% e quindi nel momento in cui possiamo crescere ancora di più perché lavoriamo insieme nel momento in cui recuperiamo bene Daniela nel momento in cui troviamo tutti i meccanismi penso che gli altri ci devono rispettare come noi rispettiamo gli altri e adesso l'handball maschile dopo essersi guadagnata l'accesso alle Final Four di Coppa Italia la Tecnoelettronica tornerà in campo sabato al Palagiorgio Binchi per ospitare il Fasano per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A dell'It ed è proprio tutto per questa prima edizione grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata su Teleponte vi ricordo alle 15 invece l'appuntamento con 4 giorni e alla conduzione Rino Orsatti grazie per averci seguito e arrivederci